Siamo arrivati in un'altra parte in penna in penna è già partito cazzarola aspetta un momento oh non mi aspetta neanche cazzo oh ma è già partito dai non puoi partire da me dai tu sei per il mio fuoco in penna è in penna è in penna a zero a zero oh ma io c'ho mezzo buone è figa cazzo oh non faccio il tempo a stargli dietro cazzo oh ma adesso non mi aspetta due a partire cazzo è in penna è in penna Sì, io ce l'hai sconfitto. Oh, impennata uscita, eh? Impennata, eh? Impennata! Impennata! Allora! Quella bella, figaro si è la guida. Quella di quattro ma non ce la faccio più io adesso. Figaro su strac morto. Sa che sto esagerando oggi. Ma porca miseria. Dai figaro. Va bene che stavo arrivando però. Porca miseria. Bravo. Ma è la moto? Dov'è la moto? Dov'è la moto? Guarda che siamo su YouTube, eh? Lo sai dove devi andare a cercarci? Lo sai dove devi andare a trovarci? Gruppo Trial di protezione civile. Ricordati, ci sono più di 10.000 video solo di Trial. Ricordati, eh, che ci sei suonca tu stasera, eh? Gruppo Trial di protezione civile. Oppure Motoclubi Leoni. No, ma di qua viene su di qua. Oh, porca trota. Guarda via, non per i coglioni. Oh, cacchio, non so, io capisco. Ah, già, è pazzo, è lo Svizzero. C'è una bestia. Lo so, lo so, l'ho filmata, ma sai che brava, cacchio. Brava davvero lei, eh? Sono andato su dove hanno un negozio due o tre settimane fa, se mi è mio genero. Sono andato a Biasca, dove sono andato a finire, nelle cose Motoclubi Trial, chiaramente. Perché hanno, no, hanno Moto Onda, di tutti i generi. E vendono anche Trial, sì, usate, le nuove. Caccia, guida, ma guida anche là, ha fatto due o tre recuperi, porca trota. Loro però non vengono su di qua. No, no, di qua. Eh, figure. No, no, fammi stare qua, va. Capito che te non vedi con i coglioni. No, poi sono stanco. Comincia a non farcela più, cazzo. Figaro, guarda io. L'abbiamo già andato in vietro più cinque notte. Sai lui chi è? È uno dei ragazzini di Villa Guardia dei Tempi, quando eravamo allazzati, eh? Quando l'ho visto, c'è lui di dire, ma c'hai la barba bianca anche te, eh? È vero che saranno passati trent'anni, però... Figaro, ragazzi. È un'ottima cosa, è un'ottima cosa. Loro recuperi un cazzo. Sì, o non abbiamo capito un cazzo noi, o non abbiamo capito tutti i giovani, eh? Perché è figaro. Probabilmente entrambe le cose. Eh, c'è qualcosa che non va, eh? La prima, poi... Bravo, hai recuperato anche qua, bravo. Bravo, hai fatto un bel recupero qua, perché davanti era andato giù sbagliato. L'hai beccato al volo, bravo, bravo davvero. Ma sai che tu, papà, l'ho beccato quando non era come te, ma poco di più? Lo conosco da quei tempi, sicurati. No, io ero... Aspetta.